Salve a tutti, ben trovati, sono Don Flavio Frignani, il parroco di Casciano di Murlo, Vescovato di Murlo, Ville di Corzano e Monte Pescini. Leggiamo insieme il brano del Vangelo di oggi, sabato, della ventisettesima settimana del Tempo Ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Il brano che abbiamo ascoltato è un brano molto breve. Siamo nel capitolo undicesimo del Vangelo di Luca, versetti 27 e 28. Due versetti semplici, asciutti. Un episodio anche minore, possiamo dire, no? Semplicemente Gesù sta parlando e a un certo punto una persona, una donna dalla folla, gli dice così Beata tua madre, sostanzialmente. Questa è una esclamazione, potremmo considerarla, di una santa invidia. Questa donna invidia un'altra donna. Una donna che invidia è la madre di Dio, Maria Santissima. Perché? Perché è la madre di Gesù. Questa donna ha notato qualcosa, certo. Ha visto Gesù fare un prodigio, un miracolo, una guarigione. L'ha sentito parlare, l'ha sentito spiegare il suo operato a delle persone che stanno opponendosi a Gesù. E quindi è colma di stupore, è colma di meraviglie. Di meraviglia. E che cosa fa? Parla di Maria Santissima portando a compimento ciò che Maria Santissima dice nel Magnificat. Torniamo un attimo con la mente a quelle parole. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Che cosa dice questa donna? Beata è tua madre. Quindi sta effettivamente magnificando anche lei le grandi cose che Dio ha compiuto in Maria. Allora, in questo stupore, in questa meraviglia, qual è il problema? Perché Gesù le risponde dicendo Beati piuttosto quelli che ascoltano. Perché questa donna, nella sua esclamazione, tralascia un aspetto, o meglio, non ha centrato forse l'aspetto fondamentale di Maria. Lei dice semplicemente Beata, beata lei, come dire, da lei ha avuto la fortuna, potremmo dire, la grazia, il dono di Dio di portarti in grembo. Ma per me questa cosa non vale. E così per tutti gli altri. Allo stesso tempo noi potremmo santamente invidiare quelli che hanno visto il Signore Gesù, quelli che l'hanno sentito parlare, quelli che sono stati a tavola con Lui, che l'hanno visto e l'hanno abbracciato dopo la risurrezione. E dire, beh, loro fortunati loro, beati loro, perché hanno avuto questo dono. E noi? E noi che siamo qua giù come facciamo a credere? O meglio, noi siamo in qualche modo meno fortunati, meno graziati da parte di Dio. Allora ecco la grande apertura che Gesù offre a tutti quelli che ascoltano. E guardate che è interessante notare nella risposta che dà Gesù non c'è la volontà di sminuire la maternità di Maria, ma tutt'altro, perché anzi la porta a un livello superiore e ci spiega dov'è la grandezza di Maria. Perché la sua maternità, prima che fisica, è una maternità nel cuore e nello spirito. Cioè, prima di tutto, Maria ha generato e concepito il figlio nel suo cuore attraverso la sua adesione di fede. Pensiamo alle parole di Elisabetta, che quando incontra Maria, che gli va appunto a farle visita, va a farle visita perché ha saputo che anche la sua parente aspetta un figlio, che cosa dice Elisabetta? Beata colei che ha creduto alle parole, alla parola. Allora, Maria è madre perché ascolta la parola, crede alla parola. E diventa madre per questo motivo. Certo che la sua maternità è inarrivabile, perché dopo di lei nessun altro, nessuno d'altro porterà nel grembo il figlio di Dio. Ma tutti quelli che credono nel figlio di Dio e credono nella sua parola possono generare il figlio di Dio nello spirito, nella loro vita. Allora, ecco che coloro che credono nella parola danno carne a questa parola e quindi la generano nella loro vita di tutti i giorni. Allora la maternità di Maria, che è una maternità che parte dalla fede, parte da un'adesione al progetto di Dio, è una maternità possibile. È una maternità che tutti i fedeli, tutti i credenti possono sperimentare. E questo è dato dall'ascolto. L'ascolto che non è un ascolto passivo, non è semplicemente sentire delle parole, ma è un ascolto attivo, è un ascolto attento, è un ascolto per cui quando io ascolto la parola di Dio mi metto totalmente a disposizione di questa parola, totalmente proteso a colui che mi parla e che parlandomi a me si dona. Si dona totalmente. E questo è il grande mistero della fede che viene dall'ascolto e di un ascolto che deve essere un ascolto orante, cioè un ascolto compiuto nella preghiera. Torniamo ancora a un altro esempio. Vedete come la scrittura si spiega con la scrittura. Sempre nel Vangelo di Luca, noi troviamo l'inizio della predicazione di Gesù, l'inizio del suo ministero, con il grande discorso programmatico che lui pronuncia nella sinagoga di Nazareth. Che cosa dice a un certo punto? Oggi questa scrittura si è compiuta nelle vostre orecchie. Cioè voi che avete ascoltato, a voi che ascoltate e credete, è data la possibilità di una concretizzazione, di una realizzazione di questa parola, che è una parola di salvezza, è una parola di grazia, è una parola di misericordia. Che cosa dice? Nel rotolo del profeta Isaia, lui trova il passo dove è scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato, mi ha consacrato collunzione perché io porti la buona novella ai poveri, la libertà agli oppressi, la scarcerazione ai prigionieri, eccetera, eccetera. L'anno di grazia del Signore». Allora queste cose si compiono. Cioè io non ascolto semplicemente come un dato di fatto per cui è venuto Gesù e allora le cose sono cambiate. No, se io credo a questa parola, se io credo a questo annuncio, questa parola si concretizza, si realizza, si compie. Ecco allora bellissima la risposta che dà Gesù. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola e la osservano. La osservano, cioè la custodiscono. Diventano quel terreno fecondo, quel terreno pronto per la semina che accoglie il seme. E il buon seme, che è la parola, in questo terreno germina, porta frutto, produce la spiga e il chicco pieno nella spiga. E dunque si può mandare la falce perché si può mietere, perché ha portato frutto questo seme che è la parola di Dio. Con questa parola di speranza non mi resta che rivolgere un saluto a tutti voi dicendo io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.